Avvizio! 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 Hanno vinto i palermitani, hanno vinto i palermitani, questa è una candidatura voluta dai palermitani, voluta dal territorio, cresciuta nel territorio e sono stati proprio quei quartieri popolari a darci lo sprint finalmente per poter iniziare l'avanzata verso la conquista di Palermo. È davvero una candidatura che ha puntato sull'orgoglio dei palermitani che non si fanno imporre delle scelte da Roma ma decidono nel loro territorio da chi e come essere guidati e allora da domani tutti quanti al lavoro. Chiamerò gli altri candidati, le altre forze politiche perché adesso c'è da riprendersi Palermo e da far uscire Palermo da questi dieci anni di disgrazia in cui ha dimostrato la propria forza perché soltanto una città forte come Palermo poteva uscire da dieci anni di cammarata.